buongiorno a tutti e benvenuti all'ottava settimana sulla salute della donna io mi chiamo serena foffi sono una cardiologa dell'ospedale santa maria delle croci e come gli altri specialisti coinvolti in questa iniziativa ognuno nel proprio ambito di interesse io ho voluto portare l'attenzione di questa iniziativa sulla cardiopatia ischemica nella donna da un punto di vista epidemiologico infatti gli accidenti cardio cerebrovascolari rappresentano ad oggi la prima causa di morte nei paesi industrializzati molto più di patologie anche considerate anche se temibili come possono essere i tumori o le patologie infettive e in particolare in italia sono responsabili di oltre il 40 per cento di tutti i decessi i fattori che si correlano con lo sviluppo della malattia cardiovascolare sono comuni nel sesso femminile nel sesso maschile e sono la presenza di ipertensione arteriosa una familiarità per cardiopatia ischemica intendendo con essa la presenza di uno o più familiari di primo grado che abbiano sviluppato un infarto entro i 65 anni d'età una pregressa abitudine al fumo o una abitudine al fumo attiva la presenza di diabete obesità elevati valori di colesterolo la probabilità di sviluppare questa malattia non dipende solo dalla rilevanza dei singoli fattori di rischio ma anche dalla combinazione degli stessi da qui nasce la prevenzione cardiovascolare come diciamo target del cardiologo clinico nella sia identificazione di questi fattori di rischio sia nella messa in atto di tutta una serie di strategie farmacologiche non volte alle modifiche degli stili di vita e all'ottimizzazione dei fattori di rischio esistenti il framing amher study fu un po il caposaldo per l'epidemiologo clinico nell'identificazione di questi fattori di rischio attraverso le prime analisi multivariate che consentirono la diciamo formulazione di delle tabelle del ricchio che sono ancora ad oggi uso comune per il cardiologo parliamo dei vari fattori di rischio l'ipertensione arteriosa è senz'altro la patologia più frequente e più largamente conosciuta la pressione arteriosa non è altro che la forza esercitata dal sangue contro la parete delle arterie ad ogni battito del cuore il sangue viene pompato in avanti in circolo dal cuore e incontra una resistenza da parte delle arterie che con il fisiologico invecchiamento delle arterie ovviamente aumenta e aumenta di conseguenza la tensione di parete provocando l'ipertensione arteriosa interessa circa il 30 per cento della popolazione adulta di entrambi i sessi e nelle donne è più frequente dopo la menopausa in italia si stima che ci sia circa un 20 per cento di ipertesi la cui prevalenza cresce con l'età e nella fascia tra i 35 e 79 anni si ha una prevalenza del 43 per cento degli uomini e di circa il 31 per cento nelle donne quella che segue è una tabella dell'oms con le varie categorie di pressioni arteriose sistolica diastolica quindi la massima e la minima che identificano le varie categorie di pressione ottimale normale normale alta ipertensione di primo grado borderline di grado 1 lieve di secondo grado moderata e di terzo grado grave e i valori di riferimento come vedete di una pressione normale variano dai 120 a 129 di pressione sistolica 80 84 di pressione diastolica già valori superiori a 130 di sistolica e superiore 85 di diastolica vengono considerati valori normali alti tutti i valori successivi in millimetri di mercurio devono essere considerati una sfida per il cardiologo clinico che deve mettere in atto una serie di strategie terapeutiche volte a riportare i valori nel range del normale oltre alla pressione arteriosa il fumo è stato identificato dall'unione europea come il principale fattore di rischio rimovibile che incide in termini di cardiopatia ischemica responsabile da solo di circa 700 mila decessi ogni anno circa il 50 per cento dei fumatori muore prematuramente con una perdita media di circa 14 anni di vita per fumatore rispetto alla popolazione generale in italia sono attribuibili al fumo oltre 93 mila morti quindi circa il 20 per cento del totale di tutte le morti tra gli uomini e circa l'8 per cento di tutte le morti tra le donne ora parliamo invece di diabete con il diabete intendiamo una patologia a interessamento multiorgano è una patologia cronica che si caratterizza per un elevato elevati valori di glucosa nel sangue e a seconda delle due sottoclassi quindi il diabete di tipo 1 che è più frequente in età giovanile dovuto a una mancanza di insulina o al diabete di tipo 1 che invece dovuto a un deficit di produzione di insulina che invece quello più frequente nell'età più avanzata il diabete da solo ha causato oltre 21 mila decessi l'anno con un tasso di mortalità per 10 mila abitanti pari al 3.3 per cento negli uomini e circa 2.3 per cento nelle donne come definiamo il diabete con valori di glicemia a digiuno superiori a 126 mg decilitro l'intolleranza glucidica è quel range invece che va dai 100 ai 125 mg decilitro di glicemia a digiuno la glicemia basale sotto i 100 invece da considerarsi normale perché dobbiamo considerare il diabete come un fattore di rischio incrementale per l'infarto ma non solo per lo sviluppo della malattia aterosclerotica a carico dei vasi che perfondano il cuore quanto perché il diabete ha un interessamento che come diciamo all'inizio è multiorgano e quindi può essere coinvolto anche nello sviluppo dell'ictus così come di altre patologie altrettanto invalidanti come per esempio l'interessamento dei distretti vascolari periferici che provocano l'arteriopatia periferica o la necropatia diabetica la retinopatia diabetica o il piede diabetico parliamo adesso di dislipidemie si parla di ipercolesterolemia quando i valori di colesterolo nel sangue sono superiori ai 200 mg decilitro le soglie variano in funzione del profilo di rischio cardiovascolare e negli anni studi di popolazione hanno visto come abbassare i valori di colesterolo cattivo è diventato sempre più importante per la prevenzione degli eventi cardiovascolari i livelli di colesterolo infatti rimangono ad oggi il miglior descrittore di rischio per gli eventi cardiovascolari secondo una relazione continua di tipo lineare che diciamo mostra che non ci sono valori troppo bassi di colesterolo ma si è visto che una riduzione di ogni millimetro molare di valori di colesterolo si associa a una riduzione di eventi cardiaci pari a circa il 21 per cento nella fascia tra i 35 e 79 anni si ha una prevalenza di circa il 35 per cento di dislipidemia negli uomini e circa un 40 per cento nelle donne anche la prevalenza della dislipidemia cresce con l'aumentare dell'età e dal punto di vista dei target terapeutici a seconda del profilo di rischio che abbiamo stimato del singolo paziente ci dovremo andare a prefiggere un goal cioè un target di colesterolo nella popolazione generale quindi quando non abbiamo fattori di rischio che incido in maniera significativa sul sviluppo di malattie cardiovascolari ci possiamo attenere a valori di colesterolo inferiori ai 116 milligrammi decilitro nei pazienti invece al rischio intermedio ci dobbiamo attenere al di sotto dei 100 milligrammi decilitro nei pazienti ad elevato rischio il target deve essere inferiore a 70 nei pazienti ad alto rischio che hanno anche il diabete deve essere sotto i 55 e nei pazienti ad elevatissimo rischio che quindi hanno valori hanno avuto almeno due eventi cardiovascolari maggiori nei due anni precedenti il target deve essere inferiore ai 40 milligrammi decilitro adesso andiamo a parlare di quella che è la prevalenza dell'infarto nella donna in europa oggi muoiono per problematiche cardiovascolari circa il 43 per cento delle donne contro un 38 per cento degli uomini l'incidenza aumenta con l'aumentare dell'età in quanto le donne sono protette diciamo nell'età fertile dagli estrogeni e quando sia invece il crollo fisiologico di questi ormoni con la menopausa questo influisce a livello di delle modifiche che vengono messe in atto in termini di metabolismo e una serie di meccanismi che provocano un aumento della pressione del peso corporeo che contribuiscono a un aumento della probabilità di eventi cardiovascolari per la donna questo è uno schema che raffigura in maniera diciamo esemplificativa le coronarie che sono cioè i vasi che per fondo nel cuore e il meccanismo che sottende l'infarto nella sua variante diciamo più classica è quello della terosclerosi ovvero un meccanismo che inizia già dal primo decennio di vita che è un meccanismo di tipo infiammatorio che si sviluppa a carico dell'intima cioè uno degli strati di questi vasi che è provocato da un accumulo e dall'ossidazione delle lipoproteine della parete delle arterie di grosso e medio calibro che provoca lesioni multifocali evolutive tra cui le placche aterosclerotiche o ateromi. La reazione infiammatoria mediata da citochine è responsabile degli stadi evolutivi della malattia dove il primum movens è la lesione endoteliale e gli elementi fondamentali per la formazione della placca sono lo stato infiammatorio dell'intima e l'accumulo di LDL che sono le lipoproteine a bassa densità di cui parlavamo poco fa. Quindi lo sviluppo di questa placca aterosclerotica provoca nel tempo una progressiva occlusione del lume fino a una diciamo un'ostruzione anche completa o una perforazione, una trombose, un'amatoma di questa placca che possono appunto determinare il meccanismo fisiopatogenetico alla base del sviluppo dell'infarto. Quali sono i quadri di presentazione dell'infarto? Il sintomo cardine è il dolore toracico, ha un'insorgenza improvvisa ingravescente, di solito compare più spesso con un esercizio fisico, ha una durata variabile solitamente superiore ai 15-30 minuti, è un dolore che è di tipo gravativo, può comparire al centro del petto ma può anche irradiarsi alla regione alta del collo, alla mandibola, si può irradiare posteriormente al dorso, dietro le scapole e si può associare a un corollario di sintomi di accompagnamento come per esempio la dispnea, cioè la sensazione di fame d'aria, ha una sudorazione profusa, ha una astenia, cioè una sensazione di mancanza di forze e nel caso di interessamento della parete inferiore del cuore ha dei sintomi che vengono confusi con una indigestione, una digestione, quindi la nausea e il vomito. In alcuni pazienti selezionati, soprattutto le categorie degli anziani diabetici, si può avere un infarto silente, quindi non si ha la percezione di nessun sintomo. Altra tipologia di infarto che riconosce una eziologia completamente diversa è la sindrome di Takutsubo che ha questo nome particolare che deriva da una morfologia che assume il ventricolo simile a un vaso che usavano i pescatori giapponesi per pescare i calamari, è una sindrome caratterizzata da una disfunzione acuta e reversibile delle porzioni medioapicali del ventricolo sinistro con un quadro che da tutti i punti di vista clinico, elettrocardiografico ed ecocardiografico simula quello di un infarto tradizionale, però si caratterizza per l'assenza di stenosi coronariche significative a livello angiografico. È più frequente in età postmenopausale ed è di solito generato da dei forti stress emotivi. Un'altra patologia che è molto più frequente nella donna rispetto all'uomo è la dissezione coronarica spontanea, questa però interessa più spesso le donne giovani e in un'analisi di 94 case riportate in letteratura più del 70% erano donne con un'età media di 39 anni, gli uomini invece avevano un'età di circa una decade superiore. Andando ad analizzare il processo infiammatorio che si evidenziava a livello delle coronari con un'analisi istologica, era caratterizzato da questa forma come di infiammazione dei vasi, questa periarterite, che sembrava essere proprio una risposta reattiva che non il primo movens, cioè la causa vera dell'infarto. Nel 25-30% delle dissezioni coronariche spontanee abbiamo una situazione di peripartum, quindi di per sé il peripartum configura un periodo di maggior rischio di dissezione coronarica spontanea. Abbiamo infine l'angina microvascolare che è una patologia che è caratterizzata da una disfunzione del microcircolo coronarico, ovvero una problematica diciamo che sottende un meccanismo fisiopatogenetico dovuto a una disregolazione dell'equilibrio tra la domanda e la richiesta di ossigeno nutrienti, è caratterizzata da una sintomatologia che insorge normalmente al riposo e da una caratteristica di diciamo responsività a farmaci particolari quali nitrati e calci antagonisti e la presenza di alterazioni elettrocardiografiche che non possono essere attribuite ad altre cause e anche alla presenza di un test provocativo eseguito in sala angiografica che viene considerato positivo in caso di comparsa di sintomi, modifiche elettrocardiografiche o spasmo coronarico di una o più coronarie epicardiche con un ristringimento del lume significativo superiore al 90% rispetto al calibro di riferimento. Con questa patologia abbiamo diciamo un po' passato in rassegna tutte quelle che possono essere le forme di presentazione più frequenti della cardiopatia ischemica nella donna andando appunto ad analizzare anche quali sono i fattori di rischio predisponenti e spero che in questo senso l'aver focalizzato l'attenzione su queste tematiche possa in qualche modo contribuire a un miglior controllo e una migliore attenzione nel prevenire la cardiopatia ischemica. Grazie.